Il consiglio che do è quello di informarsi bene, questa credo sia veramente la cosa importante da fare, anche perché le possibilità sono tante, le possibilità che la regione toscana mette in campo, quindi tanto bisogna conoscerle, bisogna studiarle approfonditamente e poi a un certo punto bisogna buttarsi, lasciarsi andare, perché tanto abbiamo anche la consapevolezza che a priori quale sarà la strada giusta non lo sapremo mai, quindi bisogna provare l'altra consapevolezza che poi si può cambiare strada e riorientarsi. I consigli di Lorenzo Baglioni, mattatore sul palco del Teatro della Compagnia, per la giornata dedicata all'orientamento scolastico, un evento educativo ma anche di intrattenimento per avvicinarsi a scelte importanti ma con un pizzico di leggerezza. L'evento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di regione toscana portata avanti anche attraverso Fondazione Sistema Toscana e Giovani Sì, studiare e formarsi in Toscana, scegli la strada giusta per te. Realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo. In sala studentesse e studenti delle scuole secondarie, famiglie e docenti, l'obiettivo è quello di fornire alle ragazze e ai ragazzi toscani tutte le informazioni necessarie perché possano scegliere consapevolmente il percorso scolastico e formativo più adatto a loro, alle proprie caratteristiche e ai propri desideri, accompagnandoli in una fase così importante di crescita e sviluppo. L'obiettivo è quello di accompagnare le ragazze e i ragazzi in una scelta che per loro è fondamentale per la loro crescita, per il loro sviluppo, per il loro futuro e quindi dar loro tutte le informazioni, gli strumenti necessari affinché possano fare davvero una scelta informata e consapevole e quindi accompagnare loro ma anche le famiglie e i docenti in questo percorso, in questa fase di cambiamento, di passaggio.